Benvenuto benvenuto ad una nuova lezione di MasterExcel.it Qui abbiamo un file .csv ovvero abbiamo tutti i nostri dati separati da virgole Bene, oggi andremo a dividere tutto questo in varie colonne O meglio, andremo a dividere i nostri dati per colonne in corrispondenza di ogni virgola Metodo che poi scopriremo si potrà applicare anche per qualsiasi altro simbolo Selezioniamo tutta la colonna A, da qui in alto andiamo su dati Testo in colonne Delimitato Avanti Mettiamo la spunta alla virgola e togliamo la spunta alla tabulazione Perché non occorre che la divisione venga eseguita anche sulla tabulazione E la divisione non deve essere fatta per tabulazione, quindi solo virgola Qui abbiamo una piccola preview di come andrà a dividerci i nostri dati Andiamo su avanti Fine Fatto Magari premiamo anche qui doppio clic per allargare Ecco fatto E ora ho tutti quanti i miei dati divisi per colonne, non più per virgole Ovviamente se il simbolino non fosse tabulazione, punte virgola, virgola, spazio ma qualcos'altro Lo possiamo inserire qui Per esempio chiocciolina Indietro oppure possiamo anche dividere per larghezza fissa Non mi capita spesso ma è possibile Abbiamo finito per oggi Noi ci vediamo sul mio sito masterexcel.it Ciao